Siamo umani quando? Siamo vicini alle persone. Quando sappiamo mostrare i nostri sentimenti senza averne paura. Quando ci chiedono aiuto perché ci meditimiamo nei problemi dei nostri colleghi, che possono essere i nostri. Quando ci tendiamo tutti una mano per un unico obiettivo, quello di aiutarci. Quando ci facciamo cura delle istanze e dei lavoratori. Siamo umani quando ci prendiamo cura dei lavoratori, della nostra comunità, dei luoghi in cui abitiamo e quindi proviamo insieme a fare squadra. Siamo umani quando ci occupiamo delle persone che hanno bisogno. Pensiamo agli altri. Siamo umani quando ci emozioniamo. Riusciamo a dare qualcosa di noi agli altri. Quando ascoltiamo tutte le persone che hanno bisogno di noi e abbiamo la forza di portare avanti i nostri ideali. Siamo umani quando sappiamo vivere le nostre emozioni e riusciamo a elaborarle e radicarle in noi e a sentirle vere. Siamo umani quando riconosciamo le esigenze delle altre persone. Siamo umani quando guardiamo al prossimo. Quando siamo noi stessi, quando difendiamo gli altri e ci impegniamo per farlo sempre. Quando mettiamo empatia davanti ai problemi di ogni singolo lavoratore. Siamo umani quando troviamo le nostre emozioni.